Frane e smottamenti rendono sempre più drammatica la situazione delle strade. Domani in consiglio provinciale a Campobasso è iscritta all'ordine del giorno la discussione di una mozione proposta e firmata dal presidente dell'assise di Palazzo Magno, Gianluca Cefaratti e altri consiglieri con la quale si invita la regione a destinare i 24 milioni di euro previsti per realizzare la metropolitana leggera all'emergenza strade. Chiedo che venga approvata questa mozione per destinare i fondi che la regione molise ha destinato con delibere di giunta per la metropolitana leggera alla viabilità provinciale e alla viabilità della bonifica montana. Basterebbero in questo momento per superare davvero le problematicità delle strade più importanti e maggiormente massacrate. 23 milioni e mezzo di euro rispetto a una stima fatta anche dai tecnici della provincia di Campobasso che in termini economici si aggiorna di giorno in giorno è una prima tranche di soldi che sarebbe necessaria per risistemare la viabilità provinciale. Io spero nella sensibilità della giunta regionale che possa davvero rendersi conto di quella che è la situazione drammatica della viabilità provinciale. Gianluca Cefaratti invita anche i comuni a seguire l'esempio della mozione da lui firmata. Chiederò comunque a tutte le amministrazioni comunali della provincia di Campobasso ma anche della provincia di Sernia di adottare analogo atto perché credo che anche le amministrazioni comunali debbano in qualche maniera supportare quest'atto per far capire eventualmente alla regione che davvero oggi forse nella metropolitana regionale ne possiamo fare a meno, non possiamo fare assolutamente a meno della viabilità provinciale. In tutto questo ho inserito anche il contesto della viabilità di bonifica montana. La regione non ha fatto ad oggi, nonostante lo scioglimento delle comunità montane, nessun atto per la riclassificazione delle strade e nel mio territorio, quello di mia pertinenza, esistono le strade di bonifica montana che sono assolutamente strade che sono di collegamento importante per realtà quelle vicine anche a Campobasso per le quali nessun atto è stato fosse in essere dalla regione monese nonostante i solleciti di varie amministrazioni comunali. Grazie.